Questa sera il tema è un tema molto ampio all'interno del quale probabilmente poi ritaglierà diciamo degli aspetti peculiari ma il tema è quello degli aspetti economici della transizione ambientale cioè rivisitazione dei processi utilizzando tecnologie digitali. Lo scenario climatico impone anche questo e credo che questo grande passaggio comporti non pochi cambiamenti su vari fronti compreso quello forse occupazionale e poi parlerà se ho capito bene come dice nel suo abstract del processo relativo all'elettrificazione del settore automotive che è proprio un argomento direi all'ordine del giorno. Quindi gli do la parola e grazie ancora. Grazie Stella, grazie a voi per l'invito, buonasera, sono felice di essere qui. Forse diciamo prima proprio due parole di premessa sul fatto che si parla tanto giustamente di transizione digitale e si parla tanto di transizione ambientale e qualche volta almeno nel dibattito sui media c'è la sensazione che si tratti di due processi indipendenti tra di loro. In realtà così non è nel senso che io credo che sia impossibile fare la transizione ambientale senza il digitale. Io odio ormai questa sigla industria 4.0 perché è diventata molto vuota, molto retorica, però diciamo c'è una sostanza importante dietro a questa sigla che consiste nel fatto che digitalizzando la manifattura si possono in linea di principio ottenere enormi guadagni di efficienza. Adesso io non è questo il tema della chiacchierata di oggi, però intuitivamente se io connetto tra di loro le macchine di una fabbrica ed estraggo dati che per esempio mi danno indicazioni sul consumo istantaneo di energia di ogni macchina io posso rilevare probabilmente con un sistema di intelligenza artificiale perché non posso immaginare un umano che sta lì a guardare 100 monitor che ricevono terabyte di dati al giorno. Posso individuare malfunzionamenti, posso individuare macchine che dovrebbero andare in stop e non ci vanno. Insomma si stima, ho visto una fabbrica importante di Bosch in Germania dove stimano di avere risparmiato un 20% di energia soltanto applicando dei modelli digitali, dei gemelli digitali ai loro macchinari e andando a confrontare i consumi reali di energia con quelli teorici previsti da questo modello del gemello digital. Analogamente per esempio con l'intelligenza artificiale un'azienda che conosco in Lombardia è riuscita a ridurre ordine del di nuovo 20% gli scarti di pezzi che in realtà erano buoni ma che un occhio umano prudenzialmente scartava perché stiamo parlando di componenti per i freni dell'auto dove la tolleranza all'errore è zero quindi nel dubbio si scartavano molti pezzi che un occhio umano non riusciva a distinguere da quelli buoni con un sistema di reti neurali di intelligenza artificiale si è potuto ridurre i scarti di questi pezzi in modo molto importante questo per dire che forse forse è l'unica cosa positiva, ottimistica che dico in tutto il nostro pomeriggio però questa rivoluzione industriale che va sotto il nome di Industria 4.0 forse è la prima rivoluzione industriale della storia che è intrinsecamente verde nel senso che permette guadagni di efficienza che sono poi alla fine anche miglioramenti nell'impatto ambientale perché se io riduco i consumi energetici a parità di produzione o riduco gli scarti di pezzi difettosi io ho un risparmio di energia, di materie prime, eccetera questo per dire che a mio avviso i due grandi temi transizione digitale e transizione ambientale dovrebbero parlarsi molto di più di quanto non si parli anche questo benedetto PNRR di cui tutti parliamo sono capitoli apparentemente diversi poi ci sono molti progetti che sono in comune ma nascono comunque come capitoli diversi di una narrazione io farei una carellata di immagini e poi le commentiamo un po' posso mandarle avanti io con cosa? qua così ecco per esempio qua vediamo dove sta la popolazione mondiale tutto il quadratone è la popolazione mondiale l'Europa l'Europa è sostanzialmente questa è l'Italia questa è la Germania Regno Unito Francia Polonia Ucraina Russia comunque questo arancione è l'Europa in una popolazione mondiale di 8 miliardi di persone questo già visivamente ci dà l'idea che che contiamo poco numericamente nel pianeta ecco andiamo quella dopo gentilmente qui stessa insomma simile rappresentazione questa volta in termini di PIL dove sta la ricchezza prodotta nel mondo? beh di nuovo l'Europa è quest'area qui quest'area qui questa è l'Italia la Spagna la Germania la Francia il Regno Unito Russia Svizzera però voglio dire di nuovo è abbastanza evidente che siamo abbastanza marginali nell'economia mondiale Stati Uniti e Cina è del tutto evidente in questa rappresentazione che sono davvero i due grandi giocatori dell'economia mondiale gentilmente ecco qui vediamo l'andamento dei consumi di inquinanti qui in realtà questa slide io l'ho copiata è dell'ISPI c'è un errore nel senso che la CO2 non è un inquinante la CO2 non fa male alla salute la CO2 alla salute umana la CO2 studi autorevoli dicono che altera il clima quindi è un male per l'ambiente per il clima ma non è che respirare la CO2 faccia male perché la CO2 è naturalmente nell'aria che respiriamo quindi chiamarla inquinante la CO2 onestamente è un errore quello che vediamo qui è che complice anche la mediocrissima performance dell'economia europea l'Europa è riuscita a contenere dagli anni 90 in poi le emissioni di CO2 gli Stati Uniti persino loro un pochino sono riusciti dal 2000 in poi è quello che nella letteratura economica si chiama decoupling cioè riuscire a continuare a crescere senza aumentare in maniera corrispondente le emissioni di CO2 è l'ambizione dichiarata da tanti politici quello che vediamo è che questo decoupling invece non si è verificato per nulla né in India e men che meno in Cina dove c'è stata una crescita economica straordinaria che ha tolto dalla povertà milioni di persone questo dobbiamo dirlo e che però ha generato con la crescita economica una importante emissione di CO2 andiamo avanti ecco qui vediamo che tutto il trionfalismo che talvolta nella rettorica della commissione europea io sento nominare ormai con un certo fastidio in realtà non abbiamo mai consumato tanto petrolio e tanto carbone nella storia dell'umanità come nel 2022 questo dobbiamo quindi al di là di tutte le chiacchiere su le rinnovabili eccetera a livello planetario non si è mai bruciato tanto carbone tanto petrolio come nel 2022 quindi direi che non c'è motivo per nessun tipo di trionfalismo ecco questo grafico mi sembra abbastanza interessante spero che si veda anche da lontano proviamo ad andare avanti se ne ho ancora uno basta allora togliamo un attimo no no torniamo indietro e indietro abbia pazienza guarda faccio io ecco qua niente allora quindi cosa ci dicono queste slide ci dicono ah io non ho guardato l'ora a che ora inizia quando ai 10 parlo fino ai meno 10 40 minuti va bene allora alcuni fatti che sono diciamo deducibili da da queste slide che un po' velocemente vi ho mostrato il consumo di carbone non è mai stato così elevato parliamo di 8 miliardi di tonnellate più di 8 miliardi di tonnellate a livello planetario nel 2022 se guardiamo al petrolio nel mondo nel 2022 si sono bruciati più di 100 milioni di barili al giorno ok quindi di nuovo mai tanto petrolio nella storia dell'umanità le emissioni globali di CO2 l'Europa rappresenta il 7% delle emissioni mondiali di CO2 quindi una fetta abbastanza piccola tenete conto per esempio anticipo quello che poi sarà uno degli argomenti finali della mia presentazione cioè il tema dell'automotive tenete presente che tutto il settore dei trasporti europei trasporti riconducibili a motori a scoppio incide per il 30% di questa CO2 quindi 7% e il 30% parliamo poco più del 2% della produzione mondiale di CO2 quindi se da domani mattina tutte le auto europee e tutti i camion europei andassero a idrogeno o a elettricità il le emissioni di CO2 mondiali si ridurrebbero del 2% che è meno di quello che è meno della crescita annua di CO2 imputabile alla crescita della Cina e dell'India quindi non avremmo neanche l'impatto di frenare per un anno la crescita della CO2 questo forse per aggiungere pessimismo se non ho capito male a quello che già il professor Eva ha in qualche modo illustrato la volta scorsa l'Italia l'Italia pesa meno dell'1% scusate si pesa meno dell'1% sulla CO2 mondiale pur rappresentando l'1,9% del PIL mondiale quindi in rapporto al nostro peso in termini di PIL non siamo poi così malvagi in termini di emissioni di CO2 per carità si può sempre migliorare però diciamo che i numeri non sono poi così spaventosi oggi dal sole e dall'eolico ricaviamo circa il 20% dei nostri consumi di energia più dell'80% ancora oggi in Italia deriva da gas e anche da carbone quindi la sfida che cos'è se vogliamo contribuire a salvare il pianeta o a ridurre il surriscaldamento del pianeta io diciamo non mi scrivo assolutamente tra i cosiddetti negazionisti mi dà molto fastidio la parola negazionista è uno che nega l'olocauto uno che nega che ci sia un riscaldamento del 2% di 2 gradi piuttosto che di 1 e mezzo onestamente per rispetto verso chi l'olocausto l'ha subito userei una parola diversa la trovo un po' fastidiosa però per carità anche perché questi modelli sono talmente complessi talmente complicati talmente credo dipendenti da ipotesi di lavoro che la certezza di dire che fai così allora la temperatura aumenta di 1,8 di qui al 2050 piuttosto che di 1,7 piuttosto che di 2 mi sembra davvero una una presunzione di una scienza la climatologia che non è manco una scienza sperimentale non è la chimica o la fisica è una scienza che va per modelli e quindi credo che ci vorrebbe un po' più di umiltà nel maneggiare questi numeri comunque allora dicevo qual è la sfida se vogliamo ridurre le emissioni di CO2 1 aumentare la produzione di rinnovabili quindi fare in modo che questo 20% attuale cresca sempre di più 2 visto che noi vogliamo elettrificare i consumi che oggi oggi mi sembra che circa un 20% dell'energia finale consumata è elettricità pensiamo alle nostre vite private l'elettricità che noi consumiamo è un po' di luce per illuminare le case frigoriette elettrodomestici ma già il riscaldamento delle nostre case il 99% dei casi è da idrocarburi quando noi ci muoviamo in auto eccetera usiamo idrocarburi quindi più o meno il 20% dell'elettricità che noi consumiamo come utenti finali scusate 20% dell'energia che consumiamo è energia elettrica quindi noi dobbiamo agire su un doppio fronte aumentare la quota di elettricità nei nostri consumi di energia e aumentare la quota di rinnovabili nella produzione di elettricità è una duplice molto difficile da realizzare perché teniamo conto che per un megawatt di energia solare occorre un ettaro e mezzo di pannelli solari qualcuno fa dei conti per dire ma l'Italia è grande sì però in montagna dove ci sono le pendenze non si può in città non si può voglio dire l'impatto ambientale di una cosa di questo tipo ovviamente è un impatto molto importante allora andiamo avanti alcune domande l'Europa come ho detto ha un peso relativamente piccolo l'Italia è l'un tercento è giusto che noi compromettiamo o mettiamo a rischio un apparato industriale o che graviamo una società che è già molto provata dalla transizione demografica dalla guerra in Ucraina la graviamo di ulteriori oneri derivanti dalla transizione ambientale forse forse sì però diciamo non è per esempio che elettrificando le auto europee noi salviamo il mondo questo purtroppo non è però potremmo cioè io qui credo che ci siano alcune questioni tipo etico di una certa rilevanza non sono certo io attrezzato per dare risposte a questo tipo di domande però diciamo l'Europa può dare il buon esempio ad altri paesi forse sì come dire dimostriamo un senso di responsabilità confidando che in futuro anche India e Cina Brasile Stati Uniti dimostrino altrettanta responsabilità certo è vero che nella ricerca di soluzioni cooperative non avere più niente da mettere sul piatto non è una buona idea come si va a trattare Clint Eastwood si porta sempre una pistola quando va a trattare nel film western quindi diciamo che se noi ci siamo già in qualche modo messi nella condizione di fare i buoni possiamo solo auspicare che anche gli altri lo facciano questo perché perché è un problema chiaramente di cooperazione mondiale quindi ci vuole poi io qua ho scritto espiazione noi europei abbiamo storicamente dei sensi di colpa e in effetti in qualche misura ma anche se si ricorpa i giustificati penso al colonialismo penso a tante storie penso anche al fatto che nell'ottocento e il novecento Stati Uniti e Europa hanno inquinato mezzo mondo perché sono stati i primi a iniziare una rivoluzione industriale il fatto che noi siamo stati i primi a iniziare una rivoluzione industriale determina che oggi dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro ed essere tolleranti verso paesi di più recente industrializzazione forse sì non lo so ripeto non ho risposto su questo però credo che sia una questione che ci chiama anche a dare a dare delle valutazioni tipo etico e ognuno ognuno darà le sue un altro aspetto che mi sembra interessante è che forse per la prima volta nella storia siamo di fronte a una rivoluzione che io chiamo senza desideri nel senso che quando io mi hanno i miei nonni hanno avuto la prima i miei nonni i miei nonni non voglio essere sessista hanno avuto le prime lavatrici desideravano queste lavatrici cioè erano delle cose che liberavano da un lavoro fattuoso quando è stata introdotta l'auto democratica per tutti e anche persone appartenenti a ceti che un tempo si muovevano solo a piedi hanno avuto la possibilità di viaggiare di girare il mondo in cinquecento in topolino è stato un grande processo anche di libertà di democrazia io non vedo dei ragazzini con gli occhi che brillano davanti ai motorini elettrici cioè non mi sembra che questa sia una rivoluzione trainata da una domanda che viene dal basso certamente ci sono persone che hanno una sensibilità ambientale di tipo etico di tipo culturale mi permetto di dire che a me sembra in questo momento nella società una minoranza e comunque è una minoranza che agisce su basi valoriali non mi sembra che agisca come è successo in passato sulla base di pulsioni no lo so ripeto è una domanda di nuovo che pongo a voi cioè questa a me appare come una un tentativo di rivoluzione non trainato come invece sono state le rivoluzioni del passato da desideri quantomeno desideri consumistici poi possono essere desideri sublimati di altro genere ma non sono i desideri consumistici che hanno guidato la prima la seconda e la terza rivoluzione industriale gli obiettivi che ci dà l'Unione Europea sono davvero sfidanti ai limiti francamente mi viene quasi da dire della pubblicità perché l'Unione Europea stabilisce che entro il 2030 le rinnovabili dovrebbero fornire almeno il 45% dei consumi finali di energia non della produzione di energia elettrica quindi è molto più ambizioso questo come dire l'Europa immagina che aumenti la quota di energia consumata che arriva dall'elettricità e che aumenta contemporaneamente la quota che adesso è 20% di rinnovabili quindi si immagina che pur aumentando la quota di consumo finale sotto forma di elettricità la la componente da rinnovabili aumenti di così tanto da far salire la percentuale che arriva da rinnovabili fino a 45% di qui al 2030 stiamo parlando di 7 anni 6 anni se se si fanno due conti se questo adesso la fonte è una fonte autorevole adesso poi se volete ve la trovo noi dovremo installare circa nei prossimi 7 anni 10 volte la quota di rinnovabili una quantità 10 volte più grande rispetto alla media degli ultimi 10 anni quindi significa moltiplicare per 10 lo sforzo che abbiamo fatto negli anni passati sembra difficilmente realizzabile dovremmo immatricolare ogni anno circa un milione di auto elettriche in Italia noi ne abbiamo immatricolate l'anno scorso 50 mili quindi stiamo parlando di numeri che in questo momento sembrano davvero un po' fantasiosi se vogliamo aggredire la parte importantissima di CO2 che viene dai riscaldamenti delle case noi dovremmo installare ogni anno 600 mila pompe di calore negli appartamenti degli italiani mi dicono che io non ho mai visto in vita mia come fatta una pompa di calore ma mi dicono che è un oggetto più ingombrante di uno scaldabagno quindi non è neanche detto che fisicamente ci stia nelle case di molti questa pompa di calore per non dire poi che quando purtroppo l'abbiamo visto con la vicenda del 110% quando viene spinta così viene drogata così tanto la domanda di qualcosa i prezzi di questo qualcosa esplodono l'abbiamo visto con le materie prime per l'edilizia abbiamo visto che i tempi si sono dilatati non oso pensare cosa succederebbe al prezzo delle pompe di calore se davvero se ne volessero installare 600 mila all'anno solo in Italia mi dicono che pompe di calore in Italia ne vengono prodotte praticamente nessuno vengono dalla Corea dal Giappone forse mi sbaglio su questo non ho verificato è una cosa che mi hanno riferito ma io poi troverei non so con questo ho fatto un po' una carrellata forse leggermente disordinata e mi scuso ma ho fatto un po' una carrellata di cornice adesso volevo provare a calarmi un attimo sul tema dell'automotive sul tema dell'automotive a me sembra che l'Europa in realtà si sia mossa molto bene in passato io su questo porto anche un così io faccio parte di un gruppo di lavoro di Federmeccanica insieme a CGL CISLUIL è un osservatorio sull'automotive composto da quattro persone io sono uno di questi quattro quindi l'ho un po' ma insomma l'ho un po' sentito addetti ai lavori che quantomeno non è ragionato la vicenda dell'euro 1 euro 2 eccetera inizia in Europa nel 93 arriva all'euro 6 che se non sbaglio è del 2015 l'euro 7 ancora deve essere approfato però è una vicenda che complessivamente è una vicenda di successo perché ma perché mi sembra che obbediva questo questo processo a due logiche di buon senso primo l'asticella tecnologica veniva pian piano innalzata costringendo i produttori a fare veicoli sempre meno inquinanti qui la parola inquinanti è giusta perché nell'euro 1 euro 2 euro 3 ciò che è rilevante non è l'emissione di co2 ma è l'emissione di sostanze pericolose per la salute umana quindi credo che non di non sbagliare se dico che tra l'euro 1 e l'euro 6 si sono salvate migliaia decine di migliaia di vite perché si è drasticamente ridotto l'inquinamento che deriva dai veicoli la logica dicevo era di fissare delle asticelle tecnologiche che venivano ogni 2 o 3 anni alzate questo ha molto spinto l'eccellenza dell'industria manifatturiera italiana europea nel settore auto che ha raggiunto eccellenze mondiali assolute in questo in questo in questo periodo in più questa logica dell'euro 1 euro 6 è molto modulabile per cui consiste in un divieto di vendita di veicoli di volta in volta che non fossero euro qualcosa e poi era modulabile volendo a livello geografico territoriale perché in linea di principio il sindaco di Milano può decidere che a Milano non possono circolare gli euro 4 il sindaco di un comune in provincia di Enna può decidere che possono circolare anche i veicoli euro 1 come dire che c'è una modulabilità di questa politica che può piacere o può non piacere però tiene conto del fatto che tra la punta della Sicilia e la Finlandia abbiamo delle condizioni ambientali sociali economiche profondamente diverse quindi non è una regola che piomba proprio omogenea su tutti se andiamo a vedere in realtà anche la Cina sugli auto elettriche ha fatto un'operazione molto simile che adesso noi qui tutti a gridare i cinesi giocano sporco i cinesi adesso ci invadono con le auto elettriche forse hanno anche giocato un po' sporco ma sicuramente hanno giocato più intelligentemente di noi perché hanno applicato esattamente la nostra regola europea hanno fissato delle asticelle tecnologiche che di anno in anno hanno alzato ma asticelle che riguardavano il numero di chilometri che un'auto elettrica doveva poter percorrere in autonomia che riguardavano la potenza delle batterie che riguardavano il rapporto peso-potenza dei veicoli cioè regole tecnologiche molto stringenti cioè se oggi l'industria cinese delle batterie elettriche è ai vertici mondiali è anche perché sono 15 anni che il legislatore cinese pone delle asticelle via via più alte via via più alte costringendo i produttori a rispettare delle soglie sempre più sfidanti l'Europa a me sembra ha tradito se stessa che anziché proseguire in questa logica della gradualità mette uno zero uno cioè fino al 31 dicembre del 2029 si possono vendere milioni di veicoli diesel in Europa dal primo gennaio del 2030 non se ne può vendere più neanche tra l'altro notate che la normativa europea non dice che non si possono produrre veicoli diesel dice che non si possono vendere in Europa in linea astratta l'Europa può continuare a produrre veicoli diesel e venderli in Brasile o in India i produttori di auto sembrano orientati a buttare il cuore oltre all'ostacolo e a fare full electric però di qui al 2030 potrebbero anche cambiare idea quindi diciamo che comunque la normativa europea così come è concepita non impedisce ai produttori di auto di produrre auto diesel in Europa e venderle in giro per il mondo e poi è uno 0-1 cioè in Cina sembra molto illiberale e in parte lo è nel senso che in alcune grandi città c'è un razionamento delle targhe per le auto a benzina e diesel quindi se uno compra un'auto elettrica nessun problema a immatricolarla mentre sulle auto diesel e benzina c'è un contingentamento un tot all'anno tanto che ci sono dei meccanismi di asta o addirittura delle lotterie per vedersi assegnata una targa per un veicolo a combustione interna questo visto con gli occhi degli europei e degli americani che sono molto liberali sembra una violazione della libertà individuale ma dice ma come non posso comprare a Pechino un'auto diesel immatricolare a parte che i diesel in Asia sono molto poco diffusi nelle auto un'auto a benzina l'Europa in realtà ci sta dicendo che dal primo gennaio del 2030 le targhe per i veicoli diesel saranno zero non è che saranno contingentate da che sono a piacimento un numero grande a piacere a che dalla sera alla mattina diventano zero senza nessuna specifica tecnica su cosa deve essere un veicolo elettrico cioè non si non si arriva al 2030 alzando delle asticelle via via semplicemente si dice il veicolo non deve essere a combustione interna punto su questo non lo so potremmo anche ragionare un attimo nel senso che non so in che in che direzione orientare il mio discorso ma forse può essere interessante ragionare un po' su questo cioè perché alla fine l'Europa ha preso questa strada del dell'elettrico io vedo quattro possibili logiche una è quella che abbiamo detto di dare un contributo sia pur marginale a livello mondiale però simbolicamente molto importante per dire noi europei contribuiamo alla riduzione della CO2 mondiale contribuiamo per uno E per un Epsilon in realtà ma contribuiamo a salvare il mondo va bene se questo è allora diciamo la condizione necessaria è uno che l'elettricità che io uso per alimentare le auto elettriche possibilmente venga da rinnovabili oppure venga anche da idrocarburi a condizione che il processo di generazione di elettricità da idrocarburi nelle centrali elettriche a idrocarburi sia così più efficiente rispetto alla combustione interna di un motore da dare comunque un saldo positivo il che probabilmente è quindi è sbagliato dire tutta l'elettricità che va ad alimentare le auto elettriche deve per forza venire da rinnovabili perché se io ho delle centrali super efficienti anche a gas è possibile è possibile che ci sia un risparmio di CO2 producendo l'elettricità in una centrale super efficiente piuttosto che sul singolo motore a scoppio dove i rendimenti sono molto bassi bisogna tenere conto come voi sapete meglio di me ci sono i lussi scienziati in sala che di elettricità se ne perde parecchia trasportandola quindi c'è anche da tenere conto di quel fatto lì però diciamo che se questa è la logica beh allora si capisce anche l'impostazione e mi sembra che ci siano delle belle conferenze in programma si giustifica l'interesse per i cosiddetti i fuel e bio fuel nel senso che se l'obiettivo è salvare il mondo e quindi ridurre le emissioni di CO2 beh allora gli fuel e anche i bio fuel sono da guardare con favore perché perché catturano la CO2 dall'atmosfera si produce il combustibile poi dal tubo di scappamento esce della CO2 ma è la stessa che io ho tolto prima quindi l'impatto netto sulla CO2 è zero bene allora non si capisce per quale motivo l'Europa deve abietare i motori a scoppio dopo il 2030 se l'obiettivo era solo questo beh allora i fuel e i bio fuel sono compatibili con questo obiettivo si è un po' strano l'atteggiamento tedesco perché all'inizio erano super talebani sul full electric poi su pressioni di Porsche pare hanno detto che no forse anche i fuel andavano bene va bene però se l'obiettivo è salvare il mondo dalla CO2 i fuel e bio fuel vanno bene la differenza ve la spiegheranno meglio di me i relatori dopo ma insomma credo che le fuel è un processo chimico il bio fuel invece arriva da materiale biologico scarti alimentari eccetera da notare questo è un po' un po' quasi paradossale che per produrre questi carburanti ci vuole tantissima energia ovviamente e già si parla di andarli a produrre guarda caso in Arabia Saudita dove c'è un sacco di deserto un sacco di sole e quindi si potrebbe produrre tanta energia solare e usare questa energia solare per produrre i biocarburanti poi caricarli sulle stesse petroliere che usiamo oggi e portarli qua sarebbe un risultato un po' paradossale però diciamo certo che gli fuel non li possiamo produrre con l'energia solare in Svezia questo è abbastanza è abbastanza evidente altra possibilità che noi vogliamo in realtà salvare la salute delle persone beh allora come dicevo la CO2 non è il problema tenete conto che da un diesel Euro 6 sono da un veicolo diesel Euro 6 sono più le polveri sottili generate dal rotolamento dei pneumatici e dai freni che non quelle polveri sottili che escono dalla marmita quindi un Euro 6 diesel dal punto di vista dell'impatto sulla salute è arrivato a dei livelli elevatissimi forse ci si può spingere anche oltre infatti Euro 7 puntava proprio lì nel ridurre ulteriormente le emissioni di polveri sottili dai freni dei pneumatici eccetera l'industria automobilistica è in questo momento paralizzata perché dice col cavolo che io faccio degli investimenti enormi per passare da Euro 6 a Euro 7 se tu commissione mi dai solo 5 anni per ammortizzare questi investimenti quindi o mi dai più tempo per ammortizzare gli investimenti oppure io gli investimenti non li faccio questo credo che sia la posizione dell'industria europea se l'obiettivo è la salute beh allora siamo un po' attenti perché i veicoli elettrici sono più pesanti dei veicoli a combustione interna sono problematici da smaltire perché sappiamo che le batterie tutto si può fare ma insomma lo smaltimento presuppone così come la lavorazione la raffinazione di queste materie terre rare che servono per le batterie sono in alcuni contesti anche molto inquinanti quindi bisogna considerare tutto il ciclo di vita dell'automobile dalla raccolta delle terre rare allo smaltimento dicevo i veicoli elettrici sono più pesanti di quelli a motore e quindi per esempio di polveri dai freni ne fanno di più rispetto ai veicoli termici se l'obiettivo molto ragionevole è migliorare la qualità della vita nelle città beh allora assolutamente full electric però perché non anche ibridi plug-in a condizione come è stato imposto in Cina che questi abbiano almeno 250 km di autonomia in full electric perché allora io posso imporre nei centri abitati e questi veicoli devono andare solo in modalità elettrica e io ho un motore a combustione interna per quando vado in autostrada o per quando vado in zone poco abitate qui c'è un interessante dibattito tra il mondo tesla diciamo e il mondo toyota toyota è la casa automobilistica dissonante rispetto alla retorica generale dell'elettrica toyota insiste molto sull'ibrido con un argomento che è abbastanza interessante cioè dice ci sono tali colli di bottiglia nella produzione delle batterie colli di bottiglia per il fatto che le materie rare sono in questo momento insufficienti i processi di raffinazione sono insufficienti le fabbriche di batterie sono insufficienti ho visto un'interessante conferenza del capo del servizio studi di toyota che dice noi di toyota con la quantità di litio col quale tesla fa un'automobile noi ne facciamo cinque e quindi dice immaginiamo un processo di transizione nel quale noi in attesa che sti colli di bottiglia diventino un po' meno drammatici noi spingiamo forte sul librido come dire non c'è niente poi di così ecologico in una tesla che pesa due tonnellate e c'ha un'enorme quantità di litio a bordo se questo crea dei colli di bottiglia che fanno impennare i prezzi poi per tutti i produttori se l'obiettivo è la qualità della vita in città onestamente gli e-fuel e i biofuel proprio non ci stanno perché una Porsche a biofuel puzza e fa rumore tanto quanto una Porsche con i combustibili fossili quindi se l'obiettivo è la qualità e la salute della vita in città allora i fuel no grazie l'altro obiettivo un po' retoricamente annunciato appunto dalla Commissione Europea è di dire no ma noi in realtà facciamo finta di essere buoni e di occuparci del mondo ma in realtà vogliamo che l'industria europea acquisti una leadership su tecnologie che sono le tecnologie del futuro quindi noi dobbiamo diventare leader nelle batterie dobbiamo diventare leader nei motori elettrici sì a me sembra che però abbiano perso un pochino la bussola nel senso che ripeto quello che ha funzionato con l'euro 1 euro 2 euro 3 è stata questa logica di dire ti metto un'assicella e poi man mano te la alzo non si è visto nulla di tutto questo sull'elettrico in Europa si è visto in Cina quindi pensare che l'Europa così diventi leader in questa tecnologia non sembra non sembra tanto facile anche perché a questo punto effettivamente i produttori cinesi hanno dei volumi talmente grandi alle spalle in Cina che hanno permesso loro di raggiungere economie di scala importanti e quindi sono gli unici in grado di vendere delle automobili anche popolari a dei prezzi popolari mentre i produttori europei sono concentrati su veicoli premium da due tonnellate e mezzo e sono molto in difficoltà mi sembra a coprire la domanda di automobili a un prezzo abbordabile anche per per un certo medio quindi io vedo onestamente due alternative un'alternativa più radicale che dice no noi dobbiamo tenere il timone dritto dobbiamo andare al tutto elettrico e quindi costerà un po' in termini di aggiustamento per l'industria europea però è una cosa che dobbiamo fare soffriremo un po' ma va fatta stringiamo i denti facciamo la prima possibile e facciamola c'è invece chi dice e mi sembra che sia una voce che sta un po' prendendo peso che dice beh immaginiamo un futuro un po' più plurale immaginiamo per esempio che che le merci viaggini il più possibile con i treni ma che i tir per esempio viaggino con gli fuel in autostrada perché con le tecnologie di oggi mi dicono che pensare a un tir che viaggia in full electric sia molto difficile pensare a un tir che sale per il turchino con batterie elettriche che è un carico importante quindi pensare alla coesistenza di più tecnologie non chiudere all'idrogeno che come ci insegna il professor Massardo ha delle possibilità straordinarie e lavorare veramente per una per una pluralità tecnologica perché neutralità tecnologica perché la commissione europea insiste molto sul fatto che che loro avrebbero una posizione per la neutralità di neutralità tecnologica cosa vuol dire neutralità tecnologica vuol dire che dal basso le imprese che perseguono il profitto si ingegnano per trovare la tecnologia migliore rispettando dei vincoli che l'amministrazione pubblica ti dà però se per esempio io faccio una regola che dice che dal tubo di scappamento deve uscire zero CO2 zero mi dicono che ipoteticamente anche un motore a scoppio che abbia che usi l'idrogeno nella combustione visto che deve essere comunque lubrificato questo motore un pochino di CO2 derivante al fatto che si brucia un po' di olio ci sarà sempre quindi se io ti dico che ti scrivo una normativa in cui ti dico che dal tubo di scappamento deve uscire zero CO2 di fatto ti dico che l'idrogeno non si può fare perché comunque o perlomeno che si può fare solo con le fuel cells ma che non si può fare con la combustione interna quindi si potrebbe io credo ragionare anche in termini di una neutralità tecnologica vera un po' meno retorica ma un po' più sostanziale se abbiamo ancora due minuti forse ce ne abbiamo vi faccio vedere un po' di dati sul settore auto che sono dati abbastanza sconvolgenti però sono forse un po' piccoli si legge si può mica ingrandire un po' ecco beh per esempio vediamo che per esempio vediamo che tra il 2000 e il 2021 la produzione di auto in Italia cala del 69% tra il 2000 e il 2021 in Spagna cala del 32% in Francia del 68% in Germania quasi del 40% in Polonia del 50% in Turchia esplode e aumenta del 160% in Cina aumenta del insomma aumenta di 34 volte negli Stati Uniti la produzione di auto in quel ventennio cala del 72% cioè sono numeri drammatici per gli operai che lavorano in questi settori per per le intelligenze che lavorano in questi settori sono numeri drammatici il Giappone in quel ventennio cala la produzione di automobili del 21% vediamo ci stiamo parlando di veicoli inquinanti da un lato uno può anche essere felice però diciamo che c'è un'idea di mobilità individuale che viene messa in discussione però nel mondo nonostante questi numeri drammatici dell'Italia dell'Europa nel mondo abbiamo questo 38 e 1 cioè nel mondo la produzione mondiale di veicoli è aumentata al 40% in vent'anni quindi c'è un problema drammatico dei produttori occidentali che sono davvero alle corde se andiamo alla slide successiva beh insomma sì oppure se torniamo ancora un attimo qui come risultato di questo cosa vediamo vediamo che l'Italia nel 2000 nel 2000 produceva il 3,4% delle auto mondiali se va un po' giù ecco e scende allo 0,8% cioè l'Italia in vent'anni passa dal produrre 3,4% delle auto mondiali allo 0,8% la Spagna passa dal 5,9% al 2,9% la Francia dal 7% all'1,6% ancora più drammatico la grande Germania passa dal 12,4% al 5,4% cioè è un'ecatombe per l'industria manifatturiera tedesca i quali tedeschi si sono difesi e non a caso hanno fatto anche una montagna di profitti le aziende si sono difesi complice anche il covid che ha fatto sì che i microchip non arrivassero hanno venduto tutto il vendibile che c'era in magazzino e poi hanno venduto solo modelli premium quindi con tutti gli accessori con tutti i modelli su cui hanno una marginalità enorme però i numeri sono quelli che vediamo la Cina nel 2000 produceva l'1,5% del totale dei veicoli mondiali oggi produce quasi il 40% quindi l'esplosione dell'industria automobilistica cinese è veramente clamorosa se gentilmente va alla slide successiva ma qui vi ho fatto non so in che minuto insomma se vi può interessare i BEV sono battery electric vehicle sono i veicoli a batterie abbiamo un po' di numeri di immatricolazioni in Europa la Germania è di gran lunga il paese dove se ne sono immatricolate di più quasi mezzo milione vedete 471.000 in Italia meno di 50.000 a livello di Unione Europea se ne sono immatricolate un po' più di un milione i numeri dei veicoli che ne so vedete diesel benzina magari ve li lascio questi dati se vi possono interessare comunque a livello europeo sulle auto immatricolate nel 22 i veicoli elettrici pesano per il 12% circa qui ho messo un po' di dati sul parco circolante su l'età media dei veicoli che in Italia è molto elevata età elevata vuole anche dire che sono veicoli inquinanti la percentuale di elettrico sul parco circolante scusate qui le righe sono quelle del grafico precedente quindi abbiate pazienza sono Francia Germania Italia Polonia e Spagna l'Italia è la terza riga quindi l'Italia ha un'età media di 14,5 e la percentuale di elettrico sul parco circolante è lo 0,1% questo è un grafico di nuovo clamoroso che ci fa vedere il surplus del settore automobilistico della della Cina che passa da insomma quelle nere sono le importazioni di veicoli quelle rosse sono le esportazioni cinesi e la differenza ovviamente è il saldo commerciale sul settore automotive voi vedete che fino al 2021 la Cina ha un deficit nel settore automobilistico sono più è più il valore di auto importate valore non numero eh valore delle auto importate che è il valore delle auto esportate nel 2021 succede qualcosa di clamoroso che è destinato ad accentuare questo grafico giustifica i titoli sui giornali sull'auto cinese però credo che giustifichi anche un po' di autocritica per le autorità europee che forse si potrebbero anche chiedere come mai siamo arrivati qua ecco io mi fermerai qui grazie grazie infinite a Luca Beltrametti credo che siano stati toccati davvero molti molti punti di grande interesse e chiedo a voi se avete da fare qualche domanda o qualche prego mi dispiace che intervenga ha fatto un'espressione sai io sono uno psicologo guardo anche la gestualità allora la ringrazio tantissimo di questa deprimente per noi tutti relazione europei anche USA NATO tutto complessivo io aggiungo che la questione economica che mi aspettavo ci fossero più dati costi robe una cosa mi ha colpito l'Italia non produce più quello lì e produce quello quello lì ma questa produzione è italiana o è di multinazionale di imprese che non sono italiane e così via quindi io dovrei aggiungere alla problematica che qui c'è qualcuno che gioca un po' stranamente mettendo in campo che povera Italia che non riesce più a produrre io direi povera Italia e perché lo Stato italiano non ha più una macchinetta da vendere che non c'è mica più la 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 romeo galiri quindi io aggiungerei le 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 appena rinunciate, ma siccome qui stiamo facendo questioni nazionali e badiamo un po', come dice quella, come dicono i polacchi, i nostri interessi, no? Stanno diminuendo di importare, di aiutare i poveri, secondo qualcuno, ucraini, ovviamente non si preoccupano minimamente di aiutare quelli che vengono qui sotto, di altro colore, e però hanno detto che adesso basta, perché l'interesse nostro, della nostra nazione, che adesso va di moda la nazione, quindi direi che aggiungerei un attimino a questo problema. Non ho fatto nessuna domanda, ho integrato. Un po' tutta me la suggerisce, nel senso che in questo dato, vabbè, che abbiamo dato del crollo di vendite dell'auto Italia, forse è, c'è un pizzico di allarmismo di troppo, nel senso che la manifattura italiana è fortissima nel vendere semi lavorati all'industria auto tedesca, quindi nell'auto tedesca c'è tanta Italia, quindi il numero di veicoli prodotti in Italia è precipitato, però i produttori di, nelle, nelle filiere dell'auto tedesca c'è tanta Italia, quindi, diciamo, se uno volesse fare una foto, una fotografia più accurata di quello che è successo all'industria automobilistica italiana, non dovrebbe solo contare il numero di auto prodotte instabilimenti in Italia, ma dovrebbe andare a contare anche quanti pezzi di manifattura italiana stanno nelle auto tedesche e nelle auto francese. Le volevo chiedere, lei cosa ne pensa del, di quelle auto elettriche che si sono auto incendiate? Ci sono stati anche dei morti dentro carbonizzati improvvisamente perché non sono tanto sicura. Ho la competenza tecnica per dire questo, ho letto, ma ho letto sui giornali, che studi seri dicono che in realtà il pericolo di incendio delle auto elettriche non è statisticamente superiore rispetto. Noi siamo tutti turbati da quel, la tragedia del bus, però non credo onestamente, io non sono come avrete capito un fan assoluto dell'auto elettrica, però. Nemmeno io sono da fare. Però non credo onestamente che le statistiche dicano che sono più pericolose, non credo. Però non sono competente. Allora mi sembra di rivedere in quello che hai e soprattutto nella parte europea, cioè quella normativa che ci piove sulla testa e che dobbiamo applicare anche se non ci piace molto. Io ricordo ultima, un po' di tempo fa, che dovevano applicare le stesse regole alla Calabria che si applicano alla Norvegia, alla Svezia, eccetera. Allora, non funziona così. Vuol dire che non abbiamo politici abbastanza bravi da fare capire queste cose? Perché mi sembra che ripetiamo esattamente gli stessi errori. sulla politica, no, non raccolgo la tua provocazione perché non lo so, poi non voglio, non mi voglio cimentare. Quello che ti posso dire, cercavo il dato che è abbastanza interessante perché tutti parlano di auto elettrica in Cina, però, però, in realtà, anche in Cina, l'autore elettrica, un fenomeno che riguarda 20 grandi città, 30 grandi città, in Cina è immensa. Questo qua è un dato che devo un po' di trovare, ma adesso lo ho trovato, appunto, 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 Volevo chiedere due o tre cose. La prima è il fatto che ci sia una, diciamo, un'età media elevata dell'automobile in Italia. Di fronte, però, se ho capito bene, a un costo elevato dell'auto elettrica, non ritieni che questo sia uno degli elementi che frena il mercato dell'auto? Punto primo. Punto secondo, anche perché, se ho letto bene in giornali qualunque, tutto questo non viene accompagnato da una distribuzione capillare di ricariche eventuali per l'auto elettrica. Numero due. Non potrebbe essere in Europa che ci sia un maggiore sviluppo di mezzi di trasporto pubblici. Penso, per esempio, che in Germania è in corso un grande sviluppo, un incremento ulteriore del trasporto ferroviario. Allora, alla luce di un alto costo dell'automobile e invece di fronte a un incremento del servizio pubblico, ci possa essere una componente di attesa, come minimo, o di servizio sostitutivo. In generale, il settore dell'auto elettrica comporta dei mutamenti importanti per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Cioè, si riflette su una riduzione dell'occupazione. È questo uno dei punti che in qualche modo rende più confuso, ma più lento, più lenta la capacità decisionale. Sì, grazie. Mi sembra che tocchi due punti essenziali. Sì, l'auto elettrica è un prodotto molto più semplice rispetto a un'auto combustibile interna. Ci sono molti meno componenti, quindi il numero di ore di manifattura è molto inferiore. Quindi, a parità di numero di veicoli, ci vuole molta meno occupazione. Questo, però, devo dire, non è che uno può contrastare l'auto elettrica perché ha un motore più semplice da costruire. Anzi, volendo, si liberano risorse per fare dell'altro. Può comportare una transizione anche dolorosa che va accompagnata, però uno dice, vabbè, queste persone troveranno lavoro in altri settori. Certamente sarebbe un percorso da accompagnare, da sostenere, però, diciamo, non mi sento di dire, mi schiero contro l'auto elettrica perché si perdono posti di lavoro nel produrre un prodotto più semplice. Credo che anche un computer, per certi aspetti, sia più semplice nella manifattura di una vecchia macchina da scrivere, forse, forse anche sì. Quindi questo tema sicuramente esiste. E certamente, cioè, a questo corrollo dell'occupazione si associa anche il fatto, come dicevi tu, che l'auto è sempre meno vissuta anche dai giovani. Questo lo tocchiamo tutti come un, come uno status symbol, come un qualcosa da desiderare. Vedevo che anche un dato interessante, il numero di giovani che prende la patente a 18 anni, è una percentuale che precipita, c'è meno interesse, cioè, questo, l'auto ha meno valenze simboliche di quelle che aveva per i giovani degli anni 60, 80, 90. Quindi, in parte, il tentativo di far diventare l'auto un servizio che si compra affittando il monopattino, piuttosto che affittando l'auto per poche ore, quindi lo sharing in generale, abilitato dal digitale, anche in questo, diciamo, si vede in realtà il matrimonio che è fra digitale e ambiente, perché io il car sharing lo posso fare solo nella misura in cui il digitale mi permette di farlo, se no è una cosa impossibile da fare. Però, diciamo, tutto lo sharing fa sì che con cento auto io faccio il lavoro che prima facevo con mille, per cui è evidente che si producono meno auto. Poi il car sharing si fa con auto piccole, tipicamente, quindi si producono anche meno auto grandi in questo scenario qui. Poi c'è anche un fatto per cui mi sembra, se la vogliamo vedere da un'altra parte che negli anni 50-60 anche il cinema americano-italiano ci ha dato questa idea di libertà individuale di movimento, adesso molto meno. Adesso c'è l'idea che i ricchi si comprano l'auto elettrica, i poveri se la comprano, i medi se la comprano di seconda mano e i poveri se la comprano di terza mano. Cioè, questo è, ci sono dei dati abbastanza impressionanti su quanti salari, quanti mesi di salario ci volevano negli anni 60 per comprare una 500 nuova e di quanti ce ne vogliono oggi per comprare una panda. Cioè, è un dato che fa impressione, quindi diciamo da un certo punto di vista quel sogno degli anni 50-60 è abbastanza, sei abbastanza infranto. Vanno i premium e poi a scendere e le persone se la compreranno di terza, di quarta mano e quindi avremo un parco circolante molto vecchio. Volevo però far notare una cosa. Lei ha parlato degli operai che lavorano a fare le fabbriche. Lei sa che le fabbriche attuali sono praticamente robotizzate o quasi, salvo alcuni momenti di lucidatura o di messa a punto dei divani che sono all'interno delle macchine. Il problema, secondo me, è che la struttura aziendale è rimasta quella vecchia. E per quello che fanno le macchine, la struttura aziendale, cioè tutta, diciamo, dirigenza, market, tutto quello che desidera, è fatto per fare macchine care. Non sono più in grado di fare macchine a basso costo, cosa che invece fanno i cinesi perché partono da davvero. Non hanno sovrastrutture. lo vediamo già nel nostro benamato Ansaldo, che ha una struttura aziendale antiquata e che non riesce a affrontare nessun prodotto nuovo. Quindi non è l'operaio, purtroppo. È tutta la catena dirigentiale. Io sono stato un dirigente, lo vedo dall'alto. È così. Gli operai, poveracci, devono solo sopportare. Ma ci sono i robot che producono. Tutto il resto è una struttura che non si può permettere di pagare con le auto elettriche che sono, come ha detto lei, dei divani con quattro ruote e un motore. Non sono dei SUV giganteschi. Infatti ci fanno delle automobili gigantesche che non servono a scudi, a nulla. Quindi sono gli aziendali che sono dei operai? No, ma io non ho mai pensato che la colpa fosse degli operai, tutt'altro. Tutt'altro, sì, sì. È un problema molto complicato. È un problema molto complicato. Comunque poi ormai l'Italia non non ha più un'industria automobilistica. No, no, ma dico, non abbiamo più anche purtroppo le teste, i quartieri generali delle aziende automobilistiche ormai, il quartiere generale di Stellantis non è a Torino. Sarebbe sciocco pensarlo. Abbiamo, sì, la Ferrari, la Lamborghini, ma sono produzioni di nicchia, produzioni minuscole. Quindi la grande industria automobilistica ormai non è più italiana. È così. Ho trovato quel dato che volevo darvi. nelle grandi città, nelle più importanti nove città cinesi, abita il 9,7% del totale della popolazione cinese. 9,7% della popolazione e ci sono il 64% dei veicoli elettrici. Quindi c'è un boom enorme di veicoli elettrici che però di fatto si concentra su 9, sulle grandi città. La Cina è sconfinata. Questo da un lato ci dice che c'è ancora un potenziale di crescita mostruoso la Cina. Cioè se questo questa diffusione dell'auto si c'è ancora un potenziale prima di di raggiungere i livelli europei enorme. Quindi questo dato mi sembra importante. Cioè è un fenomeno tutto urbano quello dell'auto elettrica oggi in Cina. Secondo la sua relazione ricchissima di dati e di informazioni anzi devo riconoscere che molti elementi che le ha messo in evidenza non avevo ancora avuto la possibilità di raccoglierli. Ci sarebbero tante domande da fare ma secondo me una va fatta, una è un'osservazione banale. Questo processo crea disoccupazione soprattutto se non si fa una programmazione adeguata di uscire da un da un settore di di produzione automobilistica e entrare in quello elettrico. Il rapporto di produzione quello che abbiamo ho rilevato tra quanti operai per una macchina diciamo tradizionale, quanti operai per una macchina elettrica, parliamo di due operai per una macchina elettrica e di cinque per un'auto. Qualcosa del genere. Più o meno siamo lì. Qualcosa del genere. Però la riflessione quindi sulla disoccupazione questo è un tema quindi anche dell'impatto sociale ma un altro impatto sociale che emerge da queste da queste analisi e dalle sue dalla sua presentazione è il problema del costo dell'energia. Che cosa può succedere a fronte di una domanda crescente in a livello mondiale e forse eh anelastica nei paesi occidentali ci sono i paesi produttori di petrolio che hanno un cartello mentre in Italia in Europa esiste l'antitrust esiste la la il reato di ehm di utilizzare di la posizione dominante abuso di posizione dominante il cartello più potente che c'è nel mondo il cartello del petrolio l'OPEC e nell'OPEC c'è non solo l'Arabia Saudita ma dal 2018 c'è anche la Russia. Hanno un'arma incredibilmente potente ma man mano che le nostre aziende occidentali disinvestono o riducono gli investimenti nella ricerca e produzione del petrolio si rafforza moltissimo il cartello che significa che noi ci troveremo tra un po' nella situazione che abbiamo avuto alla fine del durante la la inizio della guerra con l'Ucraina in cui la Russia ha ridotto abbiamo ridotto in maniera drastica l'importazione del gas e il gas si è impennato in una maniera incredibile parla di dieci volte di più il costo dell'energia. Questo rischio rimane ancora oggi ed è probabile che possa avvenire nel nei prossimi anni sul petrolio oltre che sul gas. Sul petrolio aggiunto è un altro interesse dell'aramco che è la più grande azienda petrolifera mondiale e che vuole quotarsi aveva sospeso la quotazione prima della pandemia ma sta decidendo di entrare quindi più alto il prezzo del petrolio più vale l'azione che vuole mettere in borsa. Grazie. Sentiamo ancora una domanda poi ritorniamo all'auto. mi ha impressionato il dato Francia in particolare di riduzione ma ovviamente sul territorio francese ma l'industria automobilistica francese continua a produce forse non come vent'anni fa ma produce all'estero in altri paesi come altronde in Cina mi pare che Volkswagen e altre società tedesca ora anche la Tesla produce qui non sono se giustamente lei ha parlato di produzione nazionali quindi manca quel dato di internazionalità. Vero. Questo è il punto di raggiungere. Anche se recentemente i cinesi stanno molto chiudendo alle alleanze con i produttori europei quindi questa cosa probabilmente è destinata un po' a ridursi però ha perfettamente ragione. Credo che oggi Volkswagen faccia più di metà del fatturato credo fuori dalla Germania. Sì. volevo fare un'osservazione sulla dato che avevi dato certo eh diciamo che un megawatt eh eh consuma a un numero non indifferente di eh terreno però in realtà eh ho visto eh come curiosità e ho visto in realtà che il dato è confermato eh se uno pensa a Milano guardando o su Google o diciamo il la zona urbana è venti per venti quattrocento chilometri quadrati grosso modo credo che un 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 quarto è di tetti o terrazze e quindi eh mi pareva di aver fatto credo che in tutta Italia si stima che siano mille chilometri quadrati diciamo eh in realtà usare il terreno quando ci sono terrazze e eh e tetti eh mi pare eh che attualmente si usa molto il terreno e non ci sono quasi nessuna terrazza in qualche modo piena di eh sulle terrazze a Milano fanno i parti no e tra l'altro credo che l'Unione Europea stia eh dicendo che sui nuovi eh edifici devono essere eh posti i pannelli solari. No adesso perdona mi sono scherzato tu sollevi un punto importante io non sono come avete sapete non sono un tecnico ingegnere però un aspetto che magari potrete discutere anche nelle prossime incontri a fa riferimento a un dato che mi ha impressionato sentivo Chico Testa che in un'intervista diceva lui è stato presidente dell'Enel per parecchi anni diceva quando io ho lasciato l'incarico alla fine del secolo scorso c'erano in Italia mille più o meno stazioni che producevano energia oggi sono due milioni nel senso che privati cittadini che hanno messo aziende che hanno messo i pannelli sui tetti ci sono due milioni di soggetti che immettono energia nella rete ci sono dei problemi tecnologici di dare stabilità a questa rete che sono fenomenali perché se noi pretendiamo di avere una stabilità continua con il vento che va e che viene il sole e le nuvole che arrivano cioè c'è c'è una problematica tecnologica molto complessa che io non sono in grado ovviamente di trattare però un mondo con milioni di produttori è un mondo complicato ecco da gestire tecnologicamente beh il petrolio è giusta scusa mi dimenticavo domanda fondamentale abbiamo visto però un grafico che ci dice ha ragione cioè mai come oggi in realtà il mondo dipende dal petrolio non abbiamo mai consumato tanti milioni di barili di petrolio come nel 2022 con in più il fatto che le aziende petrolifere europee sono ormai guardate come delle appestate per cui tutti i parametri ISG eccetera adesso esagero un po lo dico scherzosamente ma le banche cercano di stare alla guada alla larga delle industrie petrolifere perché perché non rispettano tutta una serie di parametri che noi europei anche e anche un po americani ma più europei in qualche modo ci siamo dati perché siamo anime candide il che è anche bello essere anime candide però giustamente lei ci ricorda che che sì che noi abbiamo tutta una serie di ambizioni però la cruda realtà dei fatti è che non si è mai consumato tanto petrolio e tanto carbone come quest'anno e che il potere economico è anche un potere di ricatto di chi produce carbone e petrolio è un potere enorme aggiungiamo che la tolleranza europea verso l'inquinamento è molto bassa per cui aprire una nuova miniera che sfrutti il litio che pur da qualche parte in Europa c'è in Europa incontra delle resistenze sociali enormi altrove comporta quindi c'è anche un qualcosa anche un po di neocolonialista nel dire io le miniere di terre rare le voglio solo in Congo qui voglio le tesla che viaggiano silenziose per le vie di Parigi se poi i gilet jaune hanno fatto tutto quello che hanno fatto è anche perché c'è un pastidio verso insomma anche una retorica che fa un po' fatica cioè tutto il fenomeno dei gilet jaune si è innescato perché c'era un adesso non voglio spiegare io cosa ma insomma perché c'era un malessere profondo di un banlieue che si vedevano aumentare il prezzo del gasolio per fini ecologico ambientali gente che doveva fare avanti indietro per andare a lavorare con delle automobili anche vecchie e che si è sentita in qualche modo anche colpevolizzata per avere una macchina vecchia per doverla usare tutti i giorni per andare a lavorare mentre la signora bene di Parigi andava a giocare a tennis con la Tesla capisco che c'è qualcosa anche di socialmente intollerabile in tutto questo e se in Olanda c'è il partito dei contadini che ha preso il 30 per cento dei voti e se c'è l'estrema destra tedesca che ha preso anche lì in alcuni land 30 per cento dei voti è anche perché alcune soluzioni così un po' un po' utopistiche comportano dei costi sociali che a volte i politici non hanno adeguatamente valutato ecco trasformare tutte le case con le pompe di calore costa drammaticamente tanto bene io ringrazio molto Luca Beltrametti torniamo a casa con voi posso dirvi che allora il 16 di ottobre ci sarà Franco Del Manso sempre alle ore 17 che parlerà di i combustibili a basso contenuto di carbonio per i trasporti siete invitati grazie infinite grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti